ciao a tutti allora oggi sono a milano per scegliere dei fiori per la composizione l'idea è stata quella di fare un mavaro a contrasto qui ci sono delle bellissime calle viola e poi andrò a scegliere qualche cosa di giallo come la craspedia allora la craspedia è bella perché dura abbastanza è un bel bel fiore giallo e poi qualcosa di verde come questo alla base ci sono 12 persone per cui più la composizione mia bisogna calcolare tutti i numeri più o meno per starci dentro e fare qualcosa di bello e anche questo lavoro da fare ci vediamo domani per fare lezione ciao ciao